Le persone con un schiavo di loro, schiavi di potere che stanno violando la Costituzione hanno paura di stare qui per far male, perché votano le politiche, perché fanno una legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento, perché hanno fatto una votazione in 10 secondi, si sta entrato, ha detto questo, gli italiani hanno fatto, e voi gli avete tolto il pane agli italiani, non sei degno di dire quello che vogliono, non sei degno di dire...